Ultima notte bianca a Bassano e primo torneo promozionale di hockey pista per le categorie under 17, 19 e senior di serie 2 a 1. Tutto pronto per l'evento di mercoledì sera organizzato da HP Training in collaborazione con Hockey Roller Bassano che vedrà scontrarsi una sessantina di atleti provenienti da tutta la provincia e non solo nelle varie categorie in una competizione che sta di Amarcord visto che si svolgerà sulla storica pista da pattinaggio del centro giovanile. I ragazzi si sono organizzati in squadre miste con nomi di fantasia con lo scopo di divertirsi promuovendo lo sport anche fuori dai palazzetti facendo metaforicamente un tuffo nel passato a partire dalle 20.